e buonasera ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo terzo episodio di walk route di anthem nello scorso episodio avevamo salvato matthias samner e c'è stata raccontata la storia della furia del cuore della furia e quindi dell'assalto del dominio alla città che si chiamava se non sbaglio libertale una cosa simile liberalia liberalia quella libertà di uncharted e niente quindi adesso andiamo subito a parlare nel frattempo scusate c'erano lasciati che dovevamo parlare con prospero solamente che erano missioni che servivano per sbloccare il negozio del dei cosmetici quindi abbiamo preferito farle off camera quindi adesso semplicemente andiamo a parlare con tassino e vediamo cosa ha da dirci ho un altro lavoro da assegnarti sono lusingato ma io ancora non so chi è lei ci sono abituata lavoro per i corbus una spia il mio lavoro è tenere sotto controllo eventuali minacce per fortarsis una mia gente si è infiltrata tra i funzionari un gruppo di contrabbandieri il suo compito è fare in modo che oggetti troppo pericolosi non finiscano nelle mani dei compratori sbagliati tuttavia nel suo rapporto ha menzionato un'incursione di combattenti stranieri nella zona chi sono come ho detto in precedenza io scommetterei sul dominio significa che i guai busseranno presto alla nostra porta grossi guai se la sua ipotesi si rivelerà fondata ho l'impressione che i guai siano la tua idea di divertimento incontrerai la mia gente all'accampamento dei funzionari qui scopri di quali altre informazioni al corrente e regolati di conseguenza porteremo a termine l'incarico ok quindi dobbiamo semplicemente andare a recuperare questa sua compagna nel nell'accampamento di questi criminali e io vorrei un attimo farvi vedere aprendo l'inventario andando sulla biblioteca che come avete visto a lato sblocchiamo tante tante cose ogni tanto ci dice tipo funzionari sbloccati tasti sbloccati corbus sbloccati essenzialmente sono del dei trionfi quelli che sono i trionfi di esseri in cui ci spiegano essenzialmente cosa sono le cose che stiamo per andare a fare per esempio i corbus rivestono il ruolo di corpo diplomatico e servizio segreto di bastion sono maestri dell'intrigo e dello spionaggio si rispondono correttamente all'imperatore di antium gli agenti dei corbus monitorano i bastion e non solo in cerca di minacciare l'umanità con un particolare interesse per il dominio sono stati i corbus i primi a usare i codificatori per decifrare comunicazioni a lungo raggio allo scopo di controllare i nemici l'organizzazione deve il proprio nome a sana sana din della legione dell'aurola soprannominata corbus in riferimento al piccolo volatile nero quindi vediamo che un po tutto fa riferimento a questa legione dell'aurola di cui sappiamo per ora molto poco ma adesso gli direi subito di iniziare la missione oh se c'è da guadagnare tutto è lecito oltre alle solite voci sui loro covi segreti in zona dovranno pur nascondere tutta quella roba da qualche parte la domanda è perché il dominio si è intromesso spero che Tassin si sbaglia riguardo non ho proprio voglia di fare il codificatore di guerra parlando un po' di questi codificatori per intenderci sono essenzialmente degli spettri di Destiny solamente che sono degli esseri umani quindi gente che dal forte ci aiuta in insomma per appunto decodificare e analizzare tutto quello che farebbe uno spettro essenzialmente lavoretti meccanici di programmazione di analisi tra l'altro ho tirato fuori quest'arma che si chiama se non sbaglio dicevo ho tirato fuori quest'arma che se non sbaglio si chiama alba della legione che è l'arma del preorder è un fucile a ricognizione che sembra molto molto forte anche perché è al potere 18 quindi sicuramente è tipo il quadro più forte di tutte le altre armi che ho fino a ora c'è una specie di registrazione qui ok buttiamoli tutti via ah nel frattempo ragazzi abbiamo anche cambiato un po' di abilità un po' di roba quindi io adesso non ho più il fulmine che piove dal cielo ma ho una specie di drago di fuoco che attraversa i muri e va a colpire un bersaglio bello e finito che poi io pensavo no il dominio ovviamente ci troveremo alla fine anche a combattere contro altre strade beh sì perché il dominio abbiamo visto che intanto utilizza solamente di tempesta anche per questo il fatto di poter sbloccare il tempesta subito non è che mi facesse proprio impazzire e comunque a me facevano abbastanza mi è piaciuto abbastanza tipo il quell'abominio enorme col braccio lungo che cioè se agisse un'animazione oh queste parole ok tipo Destiny ok siamo entrati nel covo dei funzionari che tra l'altro è una specie di settore perduto di Destiny nel senso che ci sono questi luoghi nascosti in giro per la mappa che hanno quest'icona che ovviamente ce ne sono tanti non li abbiamo ancora sbloccati quindi non ci abbiamo segnati tutti quanti geniali comunque per esempio la porta spariamo io per meglio di Destiny c'è una porta c'è di tutti non ho mai avuto a che fare con una gengia simile se direbbe tempo per aggirarmi il sistema meglio usare la forza tacca punto tacca punto ok quella verità tacca punto tacca 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 e come pensavamo il dominio e hanno la gente di Tassian restiamo nascosti tacci il manufatto sappiamo che è qui io... io non so di cosa parli mi spiegherò meglio no non è così che gestiamo gli affari trovo che il dolore non sia un grigio sostituto del denaro negoziamo il manufatto non è in vendita vedi è già qualcosa quindi ce l'hai ora dimmi il prezzo e ce ne andremo tutti soddisfatti i manufatti sono pericolosi solo se sei un tipo distratto e non è il mio caso scontratore abbiamo il manufatto mi dispiace per te fine delle trattative bastardo oh questa non me l'aspettavo una specialista davvero patetico ho già affrontato altri come te nessuno è sopravvissuto farei la stessa vita ok ok quindi c'è questo scrutatore che raga è fortissimo cioè a parte il fatto che poi non ho abito secco se è tipo un nome proprio ce ne sono tanti di scrutatori no penso sia solamente quello la eh appunto che poi hai visto è ancora in circolazione eh appunto avevamo detto che non era morto no più che altro ok vai draghetto più che altro dicevo questo qua è il mio draghetto quello che gira che ha ucciso tutti quanti è qualcosa di enorme sto tipo cioè come fa ad essere così grosso ce l'hai fatta ma che ne è della gente di tassi è grosso più grosso e ancora viva purtroppo no ma qui c'è una lo vedo sembra danneggiato forse tassi può ricavarne qualcosa non posso credere che tutto questo sia stato inutile e quello che chiamavano lo scrutatore ha preso il manufatto allora dovrò riprendermelo è la classica tattica del dominio un massacro senza testimoni cosa ci fanno così assieme non lo so ma se ci sono dei manufatti diverso ho l'impressione che non finira bene il mio strada è di nuovo ancora to a terra ah ecco il generatore respingi dobbiamo impedirgli di interferire attento cip 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 specialista puoi decidere inutili oppure arrenderti adesso e me lo dice mentre faccio la super generatore del dominio solo il dominio poteva ideare una macchina che in qualche modo generasse un campo capace di disattivare la capacità del volo degli stradi uff era l'ultimo posso ancora raggiungere lo scrutatore allora devi sbrigarti ha un bel vantaggio io sinceramente non è che abbia tutta sta voglia di andare dallo scrutatore ah ma anche io non so ecco io sono una piccola domisella tommy? io non vedo io è più rosso tutto rosso ma ma cavolo è tutto rosso ok non è più tutto rosso io ragazzi secondo me Owen lo vedo molto dicevo Owen lo vedo molto diciamo troppo cazzuto nel senso che secondo me con questa cosa che vuole venire a lavorare sul campo insieme a noi prima o poi si farà male venendoci veramente ok lo hai quasi raggiunto ma più che altro si infatti stessa cosa che pensavo io cioè fai il tuo lavoro e tranquillo e cagnolini mi dimentico sempre che si cambia l'arma con qua oh ma il mio cecchino è esplosivo ciao cagolone magari devo parlarvi a quattro occhi ti sembra forse che siano venuti fin qui a prendere il caffè non lo vedo brutto presentimento forse imboscate siamo stati attirati in fai maledizione mai un attimo di noia qua fuori eh tra l'altro ragazzi comunque mi sembra che cioè il dominio è fissato con l'idea della creazione e tutta questa tipo di energia però non è che proprio non non riesca già a utilizzarla cioè in qualche modo già già riuscito a fare qualcosa ancora ma io non l'ho ancora vista manco io mi si è iniziato tutto ma che succede? ah è lui che ci sta rivicendo una schermata penso che sta succedendo Owen? non saprei lo scrutatore è ovviamente più potente di te credo sia importante conoscere i propri avversari e tu non sei all'altezza Jay dovresti chiedere ai tuoi tenenti come la peccano o giusto non vuoi perché li ho fatti fuori i specialisti ostentano coraggio che in realtà non hanno e per questa ragione che si sono istinti per tua informazione io sono molto vivo figlio di anzi dice è andato risparmia il fiato meglio tornare al forte dobbiamo parlare con Tassi ok altra missione finita e ragazzi questo scrutatore sembra è decisamente misterioso bisogna capire da dove viene tutta questa potenza io trovo l'entità dei poteri che ha ma che capparetto è? la zona di lancio la zona di lancio consente ai specialisti di accedere rapidamente alla fucile qui a Fortarsis potrà accedere al sistema delle alleanze ah ragazzi le alleanze ragazzi sarebbero i clan e adesso ne formiamo subito uno nostro per il prossimo video dovreste vederlo la banca dei contatti al deposito personale alla via della gloria che non so cosa sia qui sotto nel negozio degli elementi cosmetici puoi accedere alle opzioni relative all'aspetto del tuo strale dalle piattaforme puoi utilizzare le porte della zona di lancio per cimentarti in una missione un contratto o una spedizione sarebbe una specie di forte eh si una specie di una specie di forte portatile pocket version va bene comunque io penso che adesso cosa dobbiamo fare dobbiamo andare a fare la porta Tarsin quindi andiamoci ok eccola e parliamoci subitamente Owen mi ha informato dell'accaduto ha un bel problema là fuori una specie di pezzo grosso del dominio i suoi lo chiamavano scrutatore non siamo riusciti a fermarlo ed era alla ricerca di un manufatto dei creatori ha scatenato l'inferno là dentro la sua agente non ha mollato fino alla fine lei beh lo so mi dispiace ci ha lasciato questo archivio lo farò analizzare il dominio è davvero tornato in forze maledizione pensavo che le spie reagissero alle cattive notizie senza battere ciglio ma rispettiamo anche i nostri nemici la vita sotto il gioco del dominio non so nemmeno se può definirsi tale e se hanno fortarsis nel mirino sì beh la vita qui al forte non è certo quella che sognavo da bambino ma questa è casa mia e non ci voglio dittatori cosa possiamo fare per il momento dobbiamo avere pazienza non voglio fare mosse avventate senza prima aver raccolto più informazioni nel frattempo c'è qualcuno che vorrei presentarti questa è la sentinella brin è abile e degna di fiducia potrebbe farle comodo un po' di assistenza perché non provi ad aiutarla mentre indago sul dominio ti contatterò io sentinella rissa brin distanza al comando del forte sentinella come possiamo renderci utili beh forse è meglio non parlarne qui incontriamoci alla mia scrivania tra le mie piante piante? già quindi bene ci vediamo ok allora va bene andiamo subito a parlare con questa tossicona della raffinella a proposito ho finalmente dato una ripulita al mio laboratorio così posso rimettermi al lavoro mi ritroverai lì se hai bisogno di me ok intanto Mattias sta là ha detto che possiamo andare a parlare sul laboratorio dobbiamo parlare con Mattias con lo specialista Yarrow aspetta lo specialista Yarrow sta di qua aspetta non so dove sia la non l'ho mai sentita raccontare in questo modo non ero più in attività da molto tempo ormai non era la mia battaglia ma i buoni amici mi tengono informato sono stato uno specialista per tanti anni sai bene di cosa si occupano gli specialisti ci occupiamo di quel che accade oltre le mura problemi aiutiamo la gente vero ma non è così semplicistico esploriamo, lottiamo contro il caos, salviamo vite lo capisci vero? si, lo capisco le persone potevano contare su di noi è molto importante in questo mondo ora è andato tutto perduto la gente non si fida più di noi sono tempi duri ma non parliamo di cose tristi ho un contratto per te, ok? devi proteggere degli arcanisti mentre svolgono dei test sismici test sismici? si, devono accertarsi che Fortarsis abbia fondamenta solide non vogliamo che sprofondino una voragine come l'ultima volta cosa? sembrerebbe che questi test attirino l'attenzione degli animali quelli con zanni affilate mi spiego? tu proteggerai un lato del forte e la specialista Wright si occuperà dell'altro hai capito? ha ricevuto bene, adesso va, sono affamato non ho ancora fatto colazione adesso parliamo subito con la tipa e vediamo cosa da dirci ehi specialista, ciao sentinella, che piacere rivederti lo è davvero? non è così? non frequento molto gli specialisti ok ho altre al di fuori delle sentinelle a dire il vero beh, spero che non ti debba pentire di conoscere uno di noi si, anch'io ok, posso aiutarti in qualche modo? si, beh, con discrezione tecnicamente non ho il permesso dei miei superiori per affidarti un incarico ma ultimamente i metamorfici hanno intensificato le loro attività attorno a una base arcanista qui vicino qualsiasi cosa sia potrebbe diventare un pericolo in mano ai metamorfici hai ragione, andrò a controllare bene, cioè, buona fortuna, specialista certo, grazie parliamo con Mattias mio salvatore è il motivo per cui i metamorfici non stanno banchettando col mio fegato maledetti metamorfici il loro eccesso di attività ha vanificato le mie ricerche su cosa stai lavorando di preciso? sto cercando un testo arcanista perduto noto come Manoscritto Elisio fu redatto dai primi membri del nostro ordine ed è scomparso da generazioni alcuni arcanisti ritengono che potrebbe aiutare a predire il comportamento degli strumenti dei creatori immagina di sapere se un manufatto genererà tempeste di fuoco o scorpidi o se ci farà in mille pezzi potremmo salvare numerose vite esatto, ogni minima informazione che riusciamo a ottenere ci è utile stai facendo progressi? l'eroico lavoro svolto dai miei assistenti possano continuare a cercare risposte anche dopo questa vita ha portato a una scoperta a quanto pare esisteva un modo molto più ingegnoso di trasmettere la conoscenza rune invisibili invisibili, proprio così come faccio? ho stuzzicato la tua curiosità devi solo continuare questa avventura per scoprirlo, no? le mie, le nostre ricerche hanno rivelato un potenziale sito con le risposte alle nostre domande dimmi solo dove andare ok, quindi terza missione sempre e comunque missioni secondarie io ragazzi penso che a questo punto possiamo anche concludere off camera appunto faremo queste tre missioni secondarie che appunto non fanno parte della storia principale quindi direi che possiamo anche concludere e direi che se il video è il prossimo salario commentate e condividetelo ritorno a tutti quelli che non conoscece che c'è la talissima vi lasciamo qua sotto in descrizione anche da bellissimo questo è un nuovissimo fastidissimo sito e da questo ci vediamo alla prossima ciao